Dobbiamo spingere affinché i mezzi pubblici ricevano finalmente l'attenzione che gli è dovuta, affinché finalmente noi studenti e lavoratori e lavoratrici di Napoli e di tutta la campagna possiamo avere il diritto di andare in mezzi pubblici che siano decenti e che siano adatti alle nostre necessità. Non vogliamo più andare in un treno affollato con 200.000 persone dentro dopo che abbiamo aspettato mezz'ora. Non vogliamo più fare ritardo a scuola semplicemente perché il treno non passava e vogliamo che tutti gli studenti che non hanno le nostre stesse possibilità, perché magari abitano in quartieri periferici o addirittura nell'Interland o nelle varie città, possano venire a scuola con tranquillità e serenità e andare in scuole che siano adatte per le loro esigenze, scuole dove il tetto non gli freglie addosso, scuole dove finalmente l'edilizia non è stata ignorata, dove finalmente possiamo dire che è stato fatto un lavoro. Questo è solo uno dei tanti presidi e dalle tante proteste che continueremo a fare fino a quando non verremo ascoltati e i nostri diritti non saranno rispettati. È arrivato il momento di riprenderci il nostro futuro e le istituzioni ci devono ascoltare.